In attesa delle vie libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico, si è svolta comunque la cerimonia di inaugurazione della 22esima edizione del Mundialido. L'evento si è tenuto presso il Totti Sporting Club alla Lungarina. Il torneo di calcio per stranieri residenti a Roma è organizzato da Club Italia, 24 le squadre partecipanti. In un periodo post-Covid era anche in dubbio che ci fosse questa adesione e che fosse confermato l'interesse da parte di tutte le comunità, le squadre con le quali ormai collaboriamo da molti anni. Quindi un Mundialido ancora più ricco di significati, direi, quest'anno. Siamo contenti di annoverare per la prima volta il Venezuela, che arricchisce le partecipanti dell'America Latina. Siamo ovviamente contenti, così siamo contenti del ritorno di alcune formazioni che hanno osservato un anno sabbatico, come Capoverde, Seneca, Al Gambia. Ripartire tutte qui al Totti Sporting Club? Confermata anche la nostra location, quindi sì. Questo sarà il primo anno che saremo presenti in questo evento, sicuramente cercheremo di fare il meglio possibile. Come si vive il calcio lì in Venezuela? Bene, diciamo che il calcio è bene, la situazione in Venezuela è quella che sappiamo e purtroppo la politica non fa crescere anche a livello sportivo, però i giocatori di calcio a livello internazionale, i venezuelani stanno facendo molto bene. Alleno il Gambia perché io alleno una squadra migranti, composta per lo più da ragazzi migranti, che è la Pineto United. La Pineto United è formata prevalentemente da ragazzi gambiani. Il Gambia è una piccola nazione africana e spero che si faccia valere. Siamo Davide contro Golia, veramente. Ho lavorato nel reparto Covid, ho finito il primo maggio, mi sono fatto un mese e mezzo. È stata un'esperienza veramente dura che se uno non l'ha vissuta penso è difficile da far capire. Per gli infermieri tutta la categoria è stato un grosso sacrificio. Eugenio ci ha chiesto da collaborare con Mossi Antica a creare la squadra dell'Italia. Noi avendo ottimi rapporti sia con la Totti che con il Club Italia abbiamo aderito. Il mio direttore sportivo sta creando una squadra per divertirci su questo campionato. Ora bisogna solo attendere le date ufficiali. L'anno scorso ha vinto il Brasile. L'anno scorso è campionato!